Ben trovati, sono il dottor Michele Labbianca, coordinatore della Task Force Nuo Coronavirus della Regione Basilicata. A proposito della Task Force, è un organo tecnico creato nel gennaio ultimo scorso, composto da 19 professionisti che ognuno nel proprio ambito e a titolo volontario supportano il Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata e il Decisore Politico con la produzione di procedure e protocolli atti a fronteggiare l'emergenza in corso. In dato odierna è stato pubblicato sul sito della Regione Basilicata l'ultimo aggiornamento della procedura operativa per la gestione dei casi di infezione da Covid-19 nella Regione. I dati riferiti all'11 novembre, già diffusi dal bollettino della Regione Basilicata, indicano che dei laboratori presso strutture ospedaliere pubbliche convenzionate della Regione Basilicata sono stati complessivamente processati 1.615 tamponi molecolari per un totale complessivo di 120.747 tamponi dall'inizio dell'epidemia. Le positività totali riscontrate in residenti sono 184, alle quali è necessario sommare due positività di residenti in altre regioni italiane ed altre 16 in immigrati, riscontrate in immigrati di varia nazionalità ospitati presso strutture di accoglienza della provincia di Potenza e comunque in isolamento in comuni della Regione Basilicata. Le ulteriori 26 positività riguardano residenti in altre regioni e lì in isolamento, i cui esiti non entrano nel computo dei positivi della Regione, riguardando soggetti che hanno utilizzato i laboratori unicamente della Regione e unicamente per la diagnosi. Sul totale dei positivi odierni risultano in regiera prevalenza i soggetti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile, con un'età mediana di 45 anni per il sesso femminile, superiore a quella del sesso maschile che si mantiene intorno ai 39 anni. Tra i casi positivi odierni sale al 22% la fascia d'età scolare, ritorna ad essere più rappresentata intorno al 64% la fascia d'età tra i 21 e i 64 anni, mentre scende al 13% la percentuale di interessamento degli ultra 65 anni. Segno che la tendenza all'aumento dei giorni scorsi era sicuramente legata all'interessamento degli ospiti di qualche struttura protetta sul territorio regionale. Alcune considerazioni sui tamponi effettuati. Il dato numerico totale alla data odierna rimane sempre elevato. La percentuale di incremento dei casi positivi nella settimana di riferimento scende per la Regione Basilicata al 31%, con un incremento percentuale dei casi però superiore alla media nazionale, almeno in questo periodo. Il rapporto casi positivi numero totale dei tamponi effettuati è sceso al 12,5% e comunque testimonia la circolazione del virus sul territorio regionale ed indica un eventuale sovraccarico nel sistema di tracciamento e di isolamento dei focolai. Per quanto riguarda i casi positivi per Covid-19 riscontrati nella Regione, 137 sono attribuiti alla provincia di Potenza e di questi 9 interessano il capoluogo. I rimanenti 128 sono distribuiti in 34 comuni della provincia. 47 sono attribuiti alla provincia di Matera e di questi 19 interessano la città di Matera. I rimanenti 28 sono distribuiti in 10 comuni della provincia. Il totale dei ricoverati presso le strutture ospedaliere lucane è di 153 pazienti, rimane stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, rispettivamente 8 ricoverati a Potenza ed 11 a Matera. Si sono purtroppo registrati ulteriori tre decessi associati a Covid con un'età mediana di circa 77 anni. Il numero totale dei decessi dall'inizio della pandemia sale a 72. I guariti della giornata sono 7 per un totale di 758 unità. I positivi Covid-19 residenti sono 3.187 mentre i residenti ad oggi in isolamento domiciliare sono 3.034. Alcune considerazioni in base ai dati presentati. Nei dati illustrati si continua ad osservare un numero elevato di casi positivi come trend, come tendenza rispettata nell'ultima settimana. Il numero dei casi positivi si attesta comunque al di sopra dei 150 giornalieri con un incremento degli indici correlati all'aumento dei casi della regione basilicata che rimangono ai limiti alti della norma così come nel resto della nazione e che hanno costretto ad introdurre anche in Basilicata misure di mitigazione. Si osserva inoltre una riduzione dell'incremento numerico dei casi visto ieri nella città di Matera. In altri comuni della provincia di Potenza si osserva una tendenza all'eccessivo incremento numerico dei casi positivi. A questo punto si ribadisce l'esigenza civica da parte di ciascuno di noi nella vita privata e nell'ambito lavorativo con le previste misure di prevenzione individuali e collettive di cercare di invertire questa tendenza all'aumento incontrollato dei casi positivi per evitare di coinvolgere più del dovuto soggetti fragili ed evitare le ripercussioni sui servizi sanitari territoriali ed ospedalieri. Ringraziandovi per l'attenzione vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento.